e la sto per farti una domanda può sembrare personale ma dopo tutto sono la tua cattiva coscienza come va la tua dieta ultimamente i professionisti della salute spesso ti mettono in guardia dai cibi che possono danneggiare il cuore lo stomaco e il fegato ma cosa mi dici dei tuoi reni pensi mai a come il tuo stile di vita influisce sui tuoi reni perché è probabile che il cibo che stai mangiando sia dannoso per loro lo sapevi che secondo le stime ogni anno in italia vengono diagnosticati oltre 300 pazienti per milioni di abitanti con malattie renali croniche parliamo dei nove alimenti che possono distruggere i tuoi reni banane pan integrale avocado perché la vita è così dannatamente crudele senza ulteriori indugi ecco la lista 1 avocado gli avocado sono spesso promossi per le loro molte qualità nutritive tra cui i loro grassi sani per il cuore fibre e antiossidanti gli avocado sono di solito una sana aggiunta alla dieta gli individui con malattie renali potrebbero aver bisogno di evitarli questo perché l'avocado è una fonte molto ricca di potassio 150 grammi di avocado forniscono 727 mg di potassio è il doppio della quantità di potassio fornita da una banana media pertanto l'avocado incluso il guacamole potrebbe essere evitato in una dieta renare specialmente se ti è stato detto di controllare l'assunzione di potassio 2 arance lo so sembra proprio che stiamo iniziando questa lista con il piede sbagliato dopo tutto tutti amano le arance gli agrumi sono ottimi per mantenere i reni che sono sani di già ma un paziente renale che sta cercando di controllare la sua salute può essere molto penalizzato dalla quantità di potassio tra l'altro sentirete spesso questa parola in questo video il motivo beh quando una persona soffre di reni oa un danno il potassio e altri minerali si accumulano nel sangue questo può causare malattie cardiache se un'arancia contiene circa 240 mg di potassio un singolo bicchiere di succo d'arancia ne contiene circa 332 non so voi ma un solo bicchiere non soddisfa esattamente la mia sete del mattino se siete alla ricerca di un sostituto sano che possa rendere felici i vostri i reni il succo d'uva e il succo di mela sono altamente raccomandati 3 sottaceti parliamo un attimo agli hipster modaioli tutti sembrano amare i barattoli di sottaceti in ogni bar che serve cioccolato con gli anacardi sembra esserci un barattolo gigante di sottaceti sopra il bancone aspetta perché diavolo sono finito in un bar di anacardi sono un hipster comunque se in qualche modo stai pensando a una dieta a base di sottaceti dovresti prima a controllare come stanno i tuoi reni mettiamo un attimo il potassio da parte e parliamo di sodio a una persona media si raccomandano 1500 2300 milligrammi di sodio al giorno quanto ne contiene un sottaceto rullo di tamburi per favore 1200 milligrammi può arrivare fino all 80 per cento dell'assunzione giornaliera una dieta a base di cibi ricchi di sodio può aprire la porta all'ipertensione arteriosa e ai calcoli renali tenete le mani lontano dal barattolo dei sottaceti 4 albicocche per alzata di mani quanti di voi al di sotto dei 65 anni pensano davvero alle albicocche così spesso scherzavo se riuscite a trovare delle albicocche dovreste assolutamente provarle questi deliziosi frutti sono noti per essere ricchi di vitamina a vitamina c e rame ma ancora una volta se i vostri reni sono deboli dovete cercare di fare una dieta sana anche in questo caso non possono essere tutte rose e fiori gente una tazza di albicocche secche può contenere fino a 1500 milligrammi di potassio lo dico con fiducia i reni della vostra prozia mariuccia devono essere sani come un pesce per tutte quelle albicocche che mangia 5 bibite gassate secondo l'american kidney fund un recente studio suggerisce che bere due o più bibite gassate dietetiche o regolari ogni giorno può aumentare il rischio di malattie renali croniche le bevande gassate e le bevande energetiche sono state entrambe messe in relazione alla formazione di calcoli renali 6 pane integrale il più delle volte al giorno d'oggi tutti sembrano raccomandare qualsiasi pane fuorché quello bianco è come se alcune persone vivessero tutta la vita predicando il vangelo del pane integrale per la maggior parte hanno ragione il pane integrale è una grande fonte di vitamine e minerali ma ancora una volta se i tuoi reni stanno male dovresti fare una buona dieta ma sappi che una singola fetta di pane integrale contiene circa 57 mg di fosforo e circa 69 mg di potassio se ti fai un panino sono 114 mg di fosforo e 138 mg di potassio e questo senza contare la carne e questo ci porta al nostro prossimo cibo 7 carne rossa la carne rossa è ricca di proteine le proteine sono necessarie per accrescere e costruire i muscoli ma sono più difficili da metabolizzare per i reni la carne rossa contiene anche grassi saturi i reni hanno bisogno di un po di grasso per funzionare correttamente ma quando sono sovraccarichi di lavoro questo può portare alla formazione di cellule note come macrofagi nel tessuto renale ciò comporta un accumulo di residui acidi nel corpo 8 spinaci è difficile credere che il cibo che braccio di ferro mangia per diventare più forte possa fare così tanto male ai pazienti renali parliamo di un'altra parola strana ossalati gli ossalati sono un composto naturale che si trova in vari alimenti lo salato di calcio si trova nell 80 per cento dei calcoli renali se si hanno calcoli renali si consiglia di consumare circa 40 50 mg di ossalati al giorno che c'entrano gli spinaci nel nostro discorso beh dovrebbe essere un alimento da evitare considerando che ne contiene circa 100 mg a porzione 9 banane le banane sono note per il loro alto contenuto di potassio se da un lato sono naturalmente a basso contenuto di sodio una banana media fornisce 422 mg di potassio dall'altro potrebbe essere difficile mantenere l'apporto giornaliero di potassio a 2000 mg se fate della banana un alimento giornaliero purtroppo anche molti altri frutti tropicali hanno un alto contenuto di potassio tuttavia l'ananas contiene sostanzialmente meno potassio di altri frutti tropicali e può essere un'alternativa più adatta ma gustosa